Questa è la prima volta, speriamo che non sia l'ultima, perché la città di Arezzo ha bisogno di queste sinergie unite per il bene di tutti, di tutta la popolazione, non soltanto nel campo delle malattie, ma in genere in tutto. E quindi auspico che queste cose continuino, non soltanto con la Chiesa, perché è già importante, ma con altre tante istituzioni. Arezzo è stata la prima città toscana a sperimentare il social bond di Ubi, l'ammontare complessivo di oltre 5 milioni di euro che era stato messo a disposizione è stato interamente sottoscritto. Questo ha permesso un finanziamento agevolato di 475 mila euro in favore del Calcit e una erogazione liberale di 25 mila euro. Finanziamenti che sosterranno il progetto Breast Cancer Unit, il centro di senologia di Arezzo. Una iniziativa che ha visto anche il sostegno del Vescovado. Un risultato che porta pace, che dà tranquillità alla gente, insomma ci avevano messo addosso una paura, a me no, ma insomma la gente aveva addosso una paura senza pari, ora finalmente è arrivato un soggetto serio, che non ci ha preso per misericordia, è venuto via a fa banca seria. E questo è un altro fatto che mi piace lanciare, voi capite subito a chi, perché ci sono tante cosine, poi c'è un'anima di fare polemica che mi porta via, ma non la faccio stamattina. Proprio due giorni fa abbiamo chiuso il colloquiamento in maniera anticipata, sette giorni prima del tempo prestabilito, pertanto un grande successo da parte di tutto. E la cosa più bella è il fatto che cittadini a retini, circa oltre 300, hanno sottoscritto questo social bond. Grande merito a tutti e un grazie ai sottoscrittori. A livello di caratteristiche di un investimento tranquillo e sereno nel tempo per cui viene affidato il denaro alla banca, ma il valore in più è quello di sapere che facendo un atto ordinario che il cliente avrebbe fatto di depositare il suo risparmio presso la banca, contribuisce a generare impatto sociale. Essere i primi in Toscana? Beh è un po' un motivo d'orgoglio, no? Poi il fatto anche che l'obbligazione sia stata prevalentemente sottoscritta su Arezzo e provincia, dà l'idea della sensibilità dei nostri clienti, ma anche dal fatto che noi siamo molto attenti a sostenere il territorio.